Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Rai. Pochi minuti fa è arrivata la terribile notizia in redazione. Nelle scorse ore è venuto a mancare un famosissimo giornalista. Il mondo del giornalismo, in particolare sportivo, e il piccolo schermo piangono la prematura scomparsa del radiocronista e autore Alberto Mandolesi che si è spento a 77 anni. Un enorme vuoto quello lasciato dalla dipartita della storica Voce Giallo-Rossa. Una carriera impressionante, la sua, che lo ha portato a raccontare la sua Roma, in tanti programmi di successo di Rai 1, Rai 2, oltre che nelle emittenti locali. È stato il precursore dei programmi di sport, in particolare di calcio, dando il via a quella che poi è stata una tradizione, parlare delle gesta eroiche della sua Roma. È stato proprio Mandolesi a parlare, per primo, del debutto di Francesco Totti con la maglia della Roma. Era il 1993, data storica per i tifosi della Roma, in cui fu proprio lui ad intervistarlo. Una patologia di cui era affetto se l'è portato via, poche ore fa. E pensare che solo il giorno precedente quello del suo decesso, aveva pubblicato la foto di uno striscione che gli era stato dedicato dalla Curva Sud in occasione di Roma, Inter, commentandolo così. Molti amici hanno girato questo scatto ai miei figli, mi ha fatto molto piacere. Tantissimi i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare, senza sosta, da colleghi giornalisti e personaggi legati al mondo romanista, tra l'incredulità e lo sconcerto. Non possiamo che unirci ai familiari del grande Alberto, cui poniamo le nostre più sentite condoglianze. Senza di lui, la Roma non sarà più la stessa.